Continuano i solenni tesseggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmelo a Canna Longa. Dopo la traslazione della statua, venuta il 7 luglio, dalla Cappella Sita, ad un chilometro dal paese, alla Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, con inizio anche della Santa Novena, questa sera, 15 luglio, vi sarà la Santa Messa, preceduta dal Santo Rosario e dalla Novena, e alle 21.30 lo spettacolo musicale a cura dell'artista Alessia. Si continua domani, 16 luglio, grande giorno dei festeggiamenti, con la Santa Messa alle ore 8, alle ore 8.30 l'arrivo del concerto bandistico Città di Vietri sul Mare, alle ore 11 la solenne concelebrazione, preseduta dal nostro Vescovo Monsignor Ciro Miniero, che impartirà il sacramento della crisi nei giovani di Canna Longa. La funzione sarà trasmessa in diretta TV su Cilento Channel, canale 7.6, e disponibile sulla pagina Facebook della stessa rete. Alle 20.30 ci sarà la processione Aux-Flambe Aux, accompagnata dal concerto bandistico Città di Vietri sul Mare, diretto dal maestro Aniello Ronca, che al termine seguirà il programma musicale. Sì, la va, non conta cosa recita, se un falto mi serà...